NAR comunque si è venuto colpito senza certi punti Sì, sì, sì Attivamente mi ricordo quando giocavo Fire Onesto, potevano... Potevano mettere... Ma hanno voluto renderla tipo... Eh hanno ne fatto un pochino di cose a crack Come in NAR Eh quindi... Beh NAR era... molto forte Vabbè fa niente Immagino Potevano... Ma non è che posso il pro camp Mamma mia È iniziato il match su Merchant Tor Strano vederlo come primo stage Non è una cosa molto niente Sì, non capita spesso Però... Ok... Non ho neanche visto che l'abbia effettivamente piccato Non lo so Questa ha la DI un po' così Sì, sicuramente dovrà lavorare un po' sulla DI Sì Ah, prova la... Un strong man con NET Un spito all'altra parte Non so Un parry Side B Che non parla... Oh nooo Side B into SD Aveva... Che sfortuna Sì, aveva tutte le risorse anche dopo l'SD Quindi... Veramente sfortunato Ok, qua però... Ah... Travo l'app Oddio, già offstage Eh... Le 11 aveva provato a intrappolare nella coda nostra probabilmente Ma... Ok... Purtroppo... Eh... Purtroppo quella SD in questo momento costa molto Ok... Ma... Comunque il primo game di non best of power Quindi... Eventualmente... Magari... Nel caso dovesse perdere Avrebbe dato un po' solamente di... Di mediare gli errori Oh wow... Perfetto... Buonissimo... Quei peccato... Comunque... Sta andando molto bene... E... 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 Ancora una di A un po' Oh... Oddio... Peccato... Sì... Boom tech... Down air up air... Wow... 5 B Una cosa che non fa mai il Yunso è andare... Col down B off stage... Mmm... Buono questo... Non lo sapete papà Io ho visto 3 sets di sto tipo... Non lo so mai... Bella per l' Yunso comunque... Non so se prende game 1... Secondo me... Dovrebbe usare più... Da un B off stage... Con me l'ha fatto... E se non è stato clippato prima che abbiamo fatto un po' di freeplay... Però in torneo in realtà... Capisco se non gioco un po' più safe... Anche se il Yunso non è... Tipo in realtà... Da pensare molto a queste cose... Al solito... Non so... Secondo me è una... È un L di Yunso... E ha provato appunto il... Down B ma... Buon ADI da parte di Laser... Questo lo esterno... Oh... Laser... Laser ha iniziato bene... Però... Per preparare col up... Non ho mai niente di fatto... Ok... Un wall... Dentro Laser... Va bene... Ah... Cavolo... Super dietro... Non è... Eh... Qui... Potenzione... Bond Down... Non lo so... Oh... Eh... Niente... È la paura qui di essere colpito... Strong... Ah... Quello è... Ferry... Facile... Facile... È mancato... Laser... Ok... Va... Let's go... E andiamo... Grande Lionzo... W... Bella... Via interna di Laser... Che si... Che muore a... 60... E ora... Boh... Non stavo giocando male... Non sembra usare... Down B per... Cercare di entrare... Per non far settare... Per... Per la roccia... Non si poteva... O anche semplicemente... Cercare di settaparla... Con... Da qualche aerea... In modo che... Sì... Ah... Ha un serato... No... È un brutto... Panish... Questo F Strong... Sì... Perché... Krag... Non morirà mai... Krag... Never dies... Oh... Oh... Bello... Bella roccia... Sì... Quella... Quella B ha un range assurdo... Nice... No... Ottimo... Che qui... Ancora una volta... Laser... Deve... Il suo... Svantaggio... Comunque... Troppo presto... Si... Rimesso da un SD... Ora... Down B... Di Onzo... Con la DI... Non precisissima... La parte di Laser... E qui... Bella DI... Non tech... Non si riesce a tornare... Non si riesce a tornare... Bellesce... Comunque... E qua... Oh... Con una DI un po' migliore... Poteva rimbalzare sulla roccia... Poteva attaccare di attento sulla roccia... Doveva fare esattamente quello... Si avrebbe dovuto assolutamente fare DI verso la roccia... E salvarsi con un tech... Allora... Cos'è... Cos'è... Ai ai ai... Lionzo... Lionzo sta giocando... Ok... Vanno al... Mystical Tree... A casa di... Maimpulse potresti moddare la faccia... Lo vorrei così tanto... Se avessi moddare lo farei... Non dovrebbe essere particolarmente difficile... Posso fare le request... Posso fare le request... Tanto... Bomb pair... Si... Bomb pair giro la roccia... Anche non la migliore delle rocce in quel caso però... Comunque... Sta rientrando laser... Dopo un inizio un po' così di questo game... Burn off stage... Burn off ping e battere la roccia lì... Non so... In questo game... Abusando... Della roccia tantissimo... Chi è... Chiamati... La protezione... Delle rocce... Un cazzo indiano... La protezione delle rocce... Basta... Così sulle rocce... Ah... Di poco... Si... Ah... Questa potrebbe... No... Ok... Terrà... Presa con... Un mito molto strano... Della strong... Che non ha mai dato nessuna parte... Qui prova... Moonwalk down strong... Leonzo parco di tanti moonwalk... È assurdo... Cazzo... Ma è con il Jackson praticamente... È pure tutto rosa... Guardalo lì... Ecco... Ok... C'è preso quella... Ehm... Upper... Era messo male... Era messo male... Sì... Sì... Ovviamente... Molto... Non parri il... Zombie... Qui... Ok... Ti sta usando molto la roccia... Sì... Ma... In maniera... Tipo... Matematica pure... Non è che tira la roccia... Tipo... Ah... Qui... Converso... E poi... Converso... Era... No... Era... 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 Nah... No... Manca la smash... clientele... Grazie... Rp vista la smash... Si... La roccia ha l'FVP, onestamente. Troppo presto il PR è lì e... Ok, io non so, bene. Io non so, penso abbia miscalcolato il... Si è dimenticato. For Gore. Poteva sopravvivere. Si, non se lo aspettava. Molta strana da... Farci radiai. Uuuuh, bella. Qua era bella. Lionzo, questo 3 a 0. Lionzo, impazzito. Onestà, onestissimo. Near into Dambi e... Lionzo proseguirà, quindi il suo torneo.